La Pistonesi ha iniziato a preparare il derby regionale contro il Tutto Cuoio, un programma domenica prossima allo Stadio Melania alle 14.30. Lucarelli può contare su tutti i giocatori in organico tranne il difensore Celiento che sta ultimando la rieducazione dopo l'asportazione del Merisco. Gli arancioni disputano giovedì pomeriggio il collaudo sulla palla di metà settimana contro la squadra allievi di Tognozzi. Da oggi è iniziata la prevendita dei biglietti. C'è attesa per lo scontro contro il Tutto Cuoio, il tecnico della formazione pisana Massimiliano Alvini sta pilotando una squadra che è considerata la rivelazione del girone. In trasferta è micidiale, ha vinto a Prato e Piacenza. Nello scorso turno di campionato ha pareggiato contro l'Aquila. La squadra omogenea può contare su di un'ottima difesa. In attacco si affida al bomber Conate che ha già tre reti all'attivo. Della partita saranno i due Echese Corrado Colombo e il difensore Falivena. Quella di domenica prossima sarà la quinta sfida tra le due squadre. Il Tutto Cuoio ha vinto due volte. La Pistoese ha ottenuto una vittoria e un pareggio. In anteprima al match nel programma Divertiamoci allo Stadio sarà disputato un mini torneo riservato ai bambini delle scuole calcio di Avanguardia, Breda, Rameni e Cibannucci. I genitori di webbicalciatori guarderanno di un prezzo speciale per prendere posto in tribuna laterale.